Siamo con Cianno Androne di Paolo del Piondicesimo, anche per voi un esordio importante allo Junior Club, raccontateci com'è andata. È bene, è bene, dieci minuti, abbiamo subito segnato, abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato, ma grazie al portiere che fa anche i rigori. Sì, è stata una partita abbastanza tranquilla, come già detto il campo non era uno dei migliori in terra, però è andata abbastanza bene. Abbiamo fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo abbiamo contenuto la squadra avversaria. Cosa ne pensate di questo torneo? È uno dei migliori a Roma e nel campo è quello di una volta, bene, bene. Sì, sì, è un ottimo torneo, speriamo di andare avanti.